Oltremmo che abbiamo fatto la sigla e tutto il cardino non metto più pera Vattene a firmare chi sono io E poi la roba veniamo se tieni il coraggio di guardarmi dall'occhio Ti stanno ancora non capiti chi sono io Ti stanno ancora non capiti chi sono io Stanno ancora non capiti chi si Voglio sapere chi si Sono io che comando Perché non c'è nessuno Puoi capiti chi non c'è nessuno Non capiti che è qui Che comandiamo noi Chissà ancora non capiti chi sono io Stanno fare tutto quanto La scabadina e poi allora fanno nella verità si tengono cura già guardami dall'occhio fanno nella verità ma guardami dall'occhio è il guappo della piazza qua stiamo facendo il capo il guappo della piazza è un documentario questo mi scusi vuole fare un'intervista? posso? ah tu a me vai come sta andando qua il guappo della piazza? tutto bene, abbiamo anche l'attore Enrico vai uno di voi, chi è che sta andando? io, io io, io un offerente prego da 1 a 10 quando vuoi bene ai tuoi amici? 10 eccolo qui dimmora ma qua io vi ricordo tutti quanti tutti quanti grazie e arrivederci grazie 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 aiuto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.